In Adriatico sono state avvistate molte nuove specie marine, ma da dove vengono e perché sono arrivate da noi lo scopriamo insieme a Samuele Amadori. Il volto dell'Adriatico sta cambiando, o almeno la sua mappa biologica. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le specie aliene che hanno colonizzato il nostro mare per vari motivi. Il tutto è facilitato da dei vettori di trasporto come possono essere le navi o proprio degli oggetti galleggianti. Il riscaldamento delle acque c'entra relativamente per ora. La causa principale è un'altra. Stanno arrivando dall'Oceano Indiano attraverso il canale di Suez. Sicuramente l'ampliamento che c'è stato nel 2005 del canale ha portato ad un ulteriore arrivo di queste specie. Attilio Rinaldi è il decano dei biologi marini dell'Adriatico. Ha stirato un'Atlante delle specie di questa zona e ora sta per completare quello del Mar Rosso. Quali sono i parallelismi tra i due vaccini? Nell'Alto Adriatico abbiamo organismi presenti anche nel Mar Rosso ma si tratta di invertebrati, non pesci. Il fenomeno della comparsa di forme di vita all'Octone per ora non ha grande impatto sull'ecosistema locale, a parte in un caso. È una piccola cozza muscolista senusia si chiama, di origine indopacifica, che crea problemi in quanto occupa spazio alla vongola verace. Addirittura le ricopre soffocandole. Abbiamo avuto la comparsa di alcuni organismi gelatinosi che magari negli anni c'erano ma non avevano ancora raggiunto questi bloom, come ad esempio la noce di mare. C'è poi qualche quotidiano che ha esagerato nell'immaginare le nuove specie scoperte. Il pesce porcellino più che alieno è una fake news.